Gentili telespettatori, buona giornata. Il Presidente della Repubblica chiama la Meloni, o meglio scrive. Sono perplesso, dice alla Presidente del Consiglio, e la mia perplessità è una perplessità costituzionale sulla proroga che avete fatto delle concessioni balneari, tutti al mare. Il Presidente Mattarella ha firmato il DDL concorrenza, ma ha scritto a Meloni questo, io lo firmo ma sono perplesso. E così invia questa lettera anche a Ignazio Larussa, Presidente del Senato, e al Presidente della Camera Lorenzo Fontana e alla Meloni. tre lettere ai vertici di governo e Stato, perché Larussa è il Vice Presidente della Repubblica e Lorenzo Fontana è il Vice del Vice del Presidente della Repubblica, quindi è la carica numero due, Larussa e Fontana è la carica numero tre dello Stato, che è una cosa, sono cariche dello Stato, mentre la Meloni è la prima carica del governo. Mattarella esprime rilevanti perplessità di ordine costituzionale sulle disposizioni che intervengono sulle concessioni balneari, in modo particolare nell'articolo 11 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, promulgata il 30 dicembre scorso, laddove vengono disposte proroghe a vario titolo. Quindi Mattarella dice, io non ho bloccato, ma avrei dovuto farlo, perché le mie perplessità costituzionali sono forti, quindi firmo ma vi avverto. Ma non è finita qui, ha altre perplessità Mattarella analoghe sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime introdotte con la legge di conversione sul decreto mille proroghe del 2022. Queste erano state oggetto di una precedente lettera del 24 febbraio 2023, inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dove Mattarella evidenzia i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e quindi con il dettato costituzionale. Sulle regole relative ai balneari Mattarella ritiene indispensabili ulteriori iniziative del Governo e del Parlamento. Sulle concessioni balneari, con un parere di 30 pagine del 15 novembre 2023, l'Europa, tramite la Commissione europea, ha inviato ufficialmente la multa, la chiamano in frazione e una multa all'Italia. Nel documento viene contestato il mancato rispetto della direttiva europea Bolkstein sulle gare pubbliche. E così oggi, per non aver toccato il settore balneare, l'Italia pagherà una multa salatissima. Il Governo e lo Stato si prendono la multa per non toccare i balneari. La Commissione evidenzia che il decreto mille proroghe approvato dal Governo Meloni il 29 dicembre del 2022, che poi anche del 2023, introducono il rinvio di un anno delle gare, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti ai medesimi titolari e pertanto in contrasto con il diritto europeo. Quindi il Governo non blocca il patto di stabilità, ma si prende la multa per infrazione europea per rinnovare le concessioni balneari. Nello stesso mille proroghe veniva anche esteso di cinque mesi il termine per la mappatura delle concessioni previste dal DDL concorrenza, facendo così slittare di un anno l'inizio per la messa a gara. Il rischio è che ora l'Italia debba pagare una nuova multa, la multa che viene pagata con i soldi degli italiani delle tasse. Quindi c'è una prima multa per il 2022 e c'è una multa per il nuovo decreto del 2023 e voi sapete che l'Italia paga ogni giorno quasi 200.000 euro al giorno per tutti i giorni dell'anno per multe di vario genere. Quindi oggi noi stiamo pagando circa il valore di un appartamento al giorno come multa, circa 200.000 euro al giorno di multe all'Unione Europea. Immaginatevi quante sono al mese e quante sono in un anno. In dieci giorni sono 2 milioni, in un mese sono 6 milioni di multa, in un anno sono 72 milioni di multa. Sono cifre buttate nella spazzatura. Ma comunque dicono sono coperte con i soldi dei contribuenti. Cioè le sanzioni sono coperte con le tasse degli italiani che pagano. Beh, qui il punto dei balneari, concessioni balneari, bisogna comunque alla fine aderire a quello che dice l'Europa. Perché se no tu continui a non rinnovare le concessioni con una gara, però fai pagare al paese e agli italiani le multe per far continuare a lavorare i balneari come prima. Non mi sembra il caso di far pagare agli italiani il problema del settore balneari. Quindi andrà fatto, prima o poi, forse è meglio farlo subito e evitare di pagare multe. Visto che già il paese è evidentemente abbastanza indebitato. Quindi la difesa a oltranza dei balneari quando continui poi a prendere. Perché ogni anno che tu non liberalizzi il settore dei balneari ogni anno prendi una nuova multa. E così il governo e lo Stato e gli italiani pagano perché il settore non è liberalizzato a dovere. Bene. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Tra una ventina di minuti ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete. E poi questi video vengono condivisi, quelli di Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete, anche su Facebook, su X, ex Twitter e su quell'altro social che sarebbe Triads, che è il Twitter di Facebook, l'X di Facebook. Quell'X è una roba impronunciabile. Arrivederci a tutti e grazie.